Il santo del giorno è San Francesco da Paola. Francesco nacque a Paola in provincia di Cosenza, da genitori anziani nel 1416. Da sempre voleva consacrarsi a Dio e dopo alcuni pellegrinaggi si riterò in vita di solitudine e fondò l'ordine dei minimi, che dal nome si capisce vivevano nella mortificazione della carne e in silenzio. Finché non cominciò ad arrivare una folla di gente per farsi guarire e aiutare. E lui aiutava e guariva tutti i poveri e gli oppressi. Il re Luigi XI ammalato lo voleva alla sua corte in Francia per guarire e il papa l'obbligò ad andare da Cosenza fino in Francia, dove restò tutta la vita molto amato da tutti. E te credo, guariva tutti. Però lui che ci pensava, lui voleva stare da sempre, solo per i fatti suoi in contemplazione con Dio. No, non c'è stato verso, tutti andavano a chiedere di qualcosa, un nervoso.